Elsa, stai già in piedi oppure dormi? Quella non mi risponde mai. Chissà cosa l'avrò mai fatto. Elsa è la mia sorella maggiore, la futura regina di Arendelle. Ed invece io sono la principessa Anna. Da piccole eravamo così legate, stavamo sempre insieme. Ma un giorno mi è esclusa dalla sua vita e non ho mai saputo perché. E' come se ne fosse venuto un cuore di ghiaccio. Sono anni che viviamo dentro queste quattro mura. Solo quadri, quadri, orologi, tic-tac, tic-tac. Non ne posso più! Maggi, va a succedere qualcosa? L'incoronazione! La luce che rompe fin fassù, credevo che non accadesse più. Non ho mai visto tanti piatti qua. Ormai da un tempo in memore, qui non si vede in ospite. Oggi quel cancello si aprirà. Quanta gente incontreremo in quell'enorme via vai. Mi sento emozionata più che mai. Questa è la vita che volevo. Niente mi renda a guardare. Avrò un figlio che sognavo. Oggi io potrò ballare. Non posso sopportare l'attesa. Penso che forse impazzirò. Però stasera di sicuro mi divertirò. Incontrerò tutti. Non vedo l'ora. E se incontrassi quello giusto. E poi l'improvviso lui è lì. Nessuno è più bello di così. È meglio se mi butto sul buffet. E non morirà. Solo che ancora non lo sa. È un'idea del tutto pazzesca. E sembra fallenda. Credo di avere per davvero. Un'opportunità.